Lo sai che il potere deve essere granata? Il potere deve essere granato. Lo sai? Sì. E perché? E perché la serenità. Come ti sapevo che la serenità è di mamma mia? Vince oggi la serenità? Sì. Che faccio? Quando vince? Deve vincere. A quando vince? A tre e a zero. Bravo.